Prendete due grandi cuochi, un saxofonista, una voce narrante e tanti tavoli imbanditi. Metteteli in un teatro assieme a un centinaio di persone. È l'altra cena, un evento speciale del Festival di Teatro Contemporaneo, andata in scena ieri sera al Teatro Gioia, sotto la regia di Jacopo Mai. L'idea in questa occasione è quella di raccontare gli spettacoli del Festival in modo particolare, cioè attraverso la cucina. Raccontare qualcosa delle compagnie, la provenienza geografica, attraverso la tavola. Che cosa può trasmettere la cucina? La cucina trasmette un sacco di messaggi. Innanzitutto la scelta di due chef di questo livello ci consente di valorizzare al massimo i prodotti, le eccellenze del nostro territorio, non solo nostra come provincia di Piacenza, ma nostre italiane. La geografia del Festival narrata attraverso i piatti di due grandi chef. Loro sono Isa Mazzocchi della Palta di Bilenio e Igles Corelli di Altman di Lamporecchio in provincia di Pistoia. Milanese di Porcini, Strudel di Pescegatto, Fusi di Capriolo per Isa Mazzocchi. E' un dolce che ricorda la riviera romagnola con lo squacquerone, il croccante al cocco e la piadina. Pegatini di pollo e tartufo, polente e cacciagione, anatra ripiena con lumache, per Igles Corelli. E' un incontro tra due amici che fanno parte dell'associazione, che hanno la fortuna di fare della propria professione un mestiere importante. Cena suggestiva, atmosfera blu e musica d'eccezione con il sax di Mattia Cigalini.